Ciao a tutti, ben ritrovati nella mia cucina. Che cosa bolle in pentalo oggi in casa dell'ambiente? Molto semplicemente un ragù di funghi porcini a base di olio evo, tritto di sedano, caroni e cipolla a cui ho aggiunto i funghi porcini tagliati a tocchetti e un pizzichino di sale. Qui bolle, andiamo a salare in diretta l'acqua, caliamo le pegne rigate e poi smacinata di pepe, formaggio a chi piace il pecorino o a chi piace il parmigiano e poi pronti per l'impiattamento. Ciao a tutti, se vi è piaciuto questo video condividete con tutti i vostri contatti, mettete tanti like e mi raccomando iscrivetevi al mio canale che è gratis e che ve lo dico a fare. Ciao a tutti, a dopo, bell'impiattamento.